Benvenuti a Classify, l'offerta di corsi online della scuola Oli. Ci sono scrittori in potenza. Ci sono mille modi per far nascere una storia. Costruire un personaggio romanzesco è un'avventura. Il lettore deve sapere perché ci sta seguendo. Qual è lo sguardo che dobbiamo adottare per coinvolgere il nostro lettore? Che cose volete raccontare e quale prospettiva desiderate scegliere per raccontare la vostra storia? Io vi farò tantissime domande. E stare attenti che il personaggio di Andrea non sia troppo sfumato. È importante scegliere il fuoco del tuo racconto. Pronti a partire?